...vecchia. Le difetterà la competenza, presto finirà la capacità con l'esperienza, dove sono andati i tempi di una volta per giù, quando ci volevo per fare il mestiere e anche un po' di vocazione. Una gamba qua, una gamba là, con fidi via, quattro pensionati in mezzo afferenati al tavolino, li troverai là col tempo che fa estate in vera, estra tracanare, estra maledire le donne il tempo è di doverla. Loro cercano la felicità dentro un bicchiere, per dimenticare adesso stati presi per il sedere, ci sarà allegria anche in agonia col vino forte, porterà un sorriso, l'ombra di un sorriso tra le braccia dell'amore. ...vecchio professore, cosa vai cercando in quel portone, forse quella che sola ti può dare una lezione, quella che di giorno chiami con disprezzo pubblica moglie, quella che di notte stabilisce il prezzo delle tue voglie. Tu la cercherai, tu la cercherai, tu la invocherai, più di una notte, ti alzerai disfattori mandando tutto, e il ventisette, quando incasserai, te la piderai, mezza pensione, diecimila lire per sentirti dire, mince, pelle, bambocione. Se ti noterai lungo le calate dei vecchi mogli, in quell'aria spessa carica di sale, gonfie di odore, lì ci troverai la degli assassini e il tipo strano, quello che ha venduto per tre milioni, sua madre a un anno, se tu penserai, se giudicherai, da buon borghese, lì condannerai a cinque milioni, più di una notte, ma se capirai, se li cercherai, fino in fondo, se non sono oggi nessun, però sempre fin lì vittima di questo mondo. Grazie.